Questo parassita ha la caratteristica di stare nella tua testa e se tu non sei cosciente di questo, farti credere che lui serve a te, farti credere che lui è la voce interna del tuo angelo custode, farti credere che è importante che tu collabori con lui perché senza di lui tu non saresti nessuno, ti riduce uno zombie mentale, il lux è l'inventore di un processo mentale fondamentale che ha distrutto la capacità creativa dell'essere umano che è la religione, il lux è l'inventore delle religioni, il lux è l'inventore, il fruitore dell'istinto di colpa, ti fa sempre sentire in colpa. Chi è parassitato dal lux sente una voce dentro la sua testa che all'inizio pensa essere la voce della sua coscienza che gli dice, vedi, ti si è staccato un bottone dalla camicia, te l'avevo detto, non mi hai dato retta, avresti dovuto rafforzarlo ieri, qualsiasi cosa che è negativa, lui dà la colpa a te, qualsiasi cosa che è positiva, hai visto, hai fatto come ti avevo suggerito io e dovrai fare sempre così per rimanere, per avere successo nella vita, tu senti queste voci interne che ti dicono questo e se non hai la coscienza di comprendere che non è la voce della tua parte animica che parla, non sei te, ma è un altro, rimani stiavo di questo essere che è un parassita e usa la tua energia. Questo parassita ha una caratteristica fondamentale, si unisce sovente al serpente, a quel alieno che abbiamo descritto prima, all'alieno sauroide. Molti addotti hanno visto il lux che entra nel sauro, quando nelle centinaia di ipnosi che ormai abbiamo fatto, abbiamo capito cosa stava succedendo, siamo rimasti molto perplessi, ma in poche parole la cosa che succede è questa, simbiosi mutualistica, quindi tra lux e serpente, non sarà l'unico caso di simbiosi mutualistica, ce ne sono altre due. L'alieno vuole una cosa fondamentale che è la nostra energia, la nostra energia sta in un corpo e si aggancia solo ai corpi, il lux non ha corpo, quindi ha bisogno di parassitare un corpo per avere l'energia, di cui parleremo dopo, che si aggancia a questo corpo. Allora, l'alieno serpente non ha questo tipo di energia, pur avendo un corpo, allora il lux ha insegnato al serpente a trasformare, nei prossimi milioni di anni, il suo corpo e il suo DNA in un corpo biocompatibile con quella che è l'energia che ha l'uomo. Quando l'alieno serpente diventerà biocompatibile, allora con l'energia, con le idee, con la tecnologia data dal lux al serpente, allora il serpente, così come lo chiamiamo noi, il sauroide, prenderà stabilmente l'energia dell'uomo, non avrà più bisogno di rapirlo tutte le volte, perché gli prenderà per sempre la sua energia, la staccherà dall'uomo e se la prenderà lui, e il lux parassiterà il serpente. Il lux parassita il serpente perché il serpente è più stupidotto, è più ingenuo, è più incapace di ragionare, proprio perché non ha questo tipo di energia, mentre l'uomo si sta accorgendo che ci sono i lux, che ci sono questi parassiti da milioni di anni, che gli antichi chiamavano Lucifero. Già, perché gli demoni di allora diventano gli alieni di oggi, abbiamo acquisito conoscenze per cui siamo in grado di dare nomi differenti a quelle che erano le credenze di una volta, e scopriamo che le credenze di una volta, i demoni, altro non sono che tecnicamente gli alieni di oggi. Lucifero, il lux, il portatore di luce, così vuol dire Lucifero, da ferro fers, tu li latum ferre, vuol dire portatore di luce. È una specie di diavolo che è il diavolo tentatore che sta dentro di noi. Lucifero pensa che non può più a lungo convincere gli uomini ad aiutarlo, e ha scelto un'altra creatura, il serpente. Serpente, Naesh lo chiamavano gli ebrei, il nemico del popolo ebraico. Il serpente, che nella tradizione ebraica rappresenta un'altra figura demoniaca. Questi due demoni si alleano tra di loro per prendere la parte vitale che abbiamo noi. Ma non basta, ahimè. Oltre questo lux abbiamo un altro tipo di alieno, un alieno molto particolare, che è la rappresentazione di un secondo tipo di simbiosi. L'alieno, alto, 2,80 metri, completamente bianco, vestito di bianco, con i capelli bianchi, ma non gialli chiari, bianchi, pochi, e uno mi disse, sono come i capelli della Barbie, di questa bambola con questi pochi capelli che sembrano finti. Sguardo bianco, pupilla piccola, nera, oppure a geometria variabile verticale. Occhio quasi totalmente bianco, sei dita nelle mani, non cinque, e le dita sono caratterizzate dall'avere tutta la stessa lunghezza. Quindi è facile riconoscere questo essere, che è vestito con un camicione bianco e ha la caratteristica di avere un medaglione attaccato al collo, con qui qualcosa, qualcosa che ha la caratteristica forma di, ancora una volta, dei triangoli variamente incrociati, qualcosa che assomiglia, ed è stato descritto così molte volte dai nostri addotti, alla stella a sei punte, l'esafala della tradizione massonica. La stella a sei punte è la rappresentazione del popolo ebraico, in qualche modo, ma perché risale il suo significato a quello che è il nodo di Salomone, l'anello di Salomone, ma è la rappresentazione ancora di due triangoli, uno con il verso in alto e l'altro, diciamo, con il verso in basso, sovrapposti, che sono la rappresentazione esoterica e alchemica del corpo, della mente, dell'anima e dello spirito, tutti attaccati in un unico simbolo. Vedremo che questa rappresentazione corpo, mente, anima, spirito, che gli antichi alchimisti usano, in realtà viene traslata ai giorni nostri sotto forma di un significato completamente diverso. Una di queste cose, la parte animica, è poi l'energia che gli alieni vogliono prenderci. Questo essere viene da un'altra parte, non è di qui, ma si scopre che in realtà è un essere finto, è di plastica in qualche modo, sono tutti uguali, ne vedi dieci, non vedi la differenza che c'è tra l'uno e l'altro, anche se sono vicini uno all'altro. Questo essere in realtà non è quello vero, l'essere di plastica, finto, che sta fuori, contiene in realtà qualcosa dentro, cioè il burattinaio che comanda il burattino fuori. Il burattinaio è un essere che non viene da questo universo, ancora una volta non ha corpo, e si aggancia alla tua mente, archetipicamente viene visto agganciarsi da dietro il collo, come se ti prendesse l'energia via radio dal cervello. In ipnosi regressiva è possibile tirar fuori questo essere, perché quando il soggetto addotto è in ipnosi, l'essere si rende conto che sta perdendo la sua marionetta viva, che gli dà l'energia, e allora tende a interagire. Non fa tempo a venire con il corpo finto, qui, e allora non avendo questo corpo finto, e quindi non potendo entrare in questa dimensione, deve agire dall'esterno, dal mondo in cui è. Come per dire, per radio in qualche modo, attraverso la lontananza, e attraverso i segnali radio, riesce a interagire con il cervello del soggetto, il quale parla con le espressioni che questo essere, che noi abbiamo chiamato ringhio, tra virgolette, mostrerebbe, se avesse una lingua. Cosa voglio dire? Che lui, l'alieno ringhio, l'essere senza corpo, parla nella tua mente, e cerca di dire delle cose. La mente interpreta archetipicamente questo linguaggio, e dà un tono di voce alla corda vocale del soggetto, che sarebbe il tono di voce che ringhio avrebbe se avesse voce. Lo interpreta, cioè, in qualche modo. L'abbiamo chiamato ringhio perché ringhia. Non a caso, molte volte, abbiamo trovato questo soggetto, l'addotto, che in ipnosi, collegato con ringhio, alza mostra il labbro e mostra il dente. Questi sono tutti modi archetipici di interagire con l'esterno.